essere frustrante fare le interviste essere costretti sempre a pronunciare il nostro nome perché sennò non vi cagano di pezza e nel titolo è più grosso il nostro nome del vostro e poi tipo ieri ti vedo dal vivo ti dico che sei un coglione faccia a faccia e abbassi lo sguardo eh è giusto per ribadire il nostro tour ha venduto più di 100.000 biglietti non è ancora uscito il disco la terza data del forum è praticamente quasi sold out e apriremo la quarta fa male, vero? raga grazie mille perché assenzia ancora il singolo italiano più venduto grandi raga 20 gennaio un nuovo video il video più bello di sempre